La domanda supera l'offerta e i prezzi lievitano. Allarmante il quadro delineato dall'Ufficio Studi di Confartigianato sui rincari delle materie prime. Alecco, gli aumenti costano alle piccole e medie imprese quasi mezzo miliardo. Per un soffio la Lombardia non è sul podio tra le regioni che stanno pagando il prezzo più alto. E allargando ancora la lente emerge che a fare i conti con questo andamento su un piano internazionale sia soprattutto l'Italia, uno spaccato che non collima con la ripresa economica. Se i settori più colpiti sono manifatture e costruzioni, è chiaro che Alecco, provincia italiana più alta specializzazione artigiana del settore della meccanica, la situazione non si arosea. Ci sono ben 6.120 piccole e medie imprese manifatturiere delle costruzioni di cui il 57%, cioè 4.467 imprese, sono artigiane con 13.394 dipendenti. Una vera e propria batossa per i bilanci delle aziende che paradossalmente in alcuni casi devono rinunciare a lavorare sia per il prezzo troppo elevato delle materie prime, sia per la difficoltà a reperirle sul mercato, denuncia Daniele Riva, presidente di Confartigianato Impreselecco, e prosegue. Materie prime sempre troppo care e spesso introvabili sono un freno per la ripresa. Si riducono il valore aggiunto e la propensione ad investire delle imprese, compromettendo sia i processi di innovazione che la domanda di lavoro. Le nostre aziende rallentano la produzione e in alcuni casi tornano ad utilizzare gli ammortizzatori sociali, nonostante la ripresa degli ordinativi. Si innesca così un circolo vizioso che va arginato e colmato. La soluzione, secondo Vittorio Tonini, segretario generale, meccanismi di calmerazione come è stato fatto per l'energia e per quanto riguarda gli appalti e le opere pubbliche, revisione dei prezzi nei contratti.